Un trade union generazionale, bimbi, ragazzi e anziani hanno unito le forze per presentare all'amministrazione comunale un progetto coi fiocchi per la riqualificazione del parco Fragaldino di Pescarenico. Gli studenti di ingegneria e di l'architettura del polo di lecco del Politecnico hanno finalizzato i contributi di tutti gli addetti ai lavori, realizzando diversi modelli. Decretato da una georia di bambini, a vincere è stato il progetto l'isola della felicità. Per la prima volta ci siamo anche confrontati con dei soggetti esterni all'università, è la prima volta che ci succede e immaginiamo che sia un'esperienza da mettere nel nostro bagaglio per il futuro, sarà sicuramente utilissimo. E i bambini sono dei clienti esigenti. Un sacco, infatti non ce l'aspettavamo, è stato quasi più duro lavorare con loro che con i nostri professori sotto alcuni punti di vista. Vuoi vedere il tuo diploma? Ho progettato l'altalena. Per portare nell'area verde anche le esigenze dei più grandi, l'associazione Il Giglio ha organizzato laboratori per la costruzione di manufatti, poi utilizzati dai bambini per i loro coloratissimi e fantasiosi progetti. Il Giglio ha a cuore quest'area verde, a dire il vero, già da alcuni anni, raccogliendo sollecitazioni che arrivano non solo dagli anziani ma anche da altre persone del quartiere. Per cui quando si è creata questa opportunità di questa progettazione partecipata, ovviamente noi non potevamo non esserci. Il Comune di Lecco ha supportato i lavori e adesso vi tocca realizzarli. Noi recepiamo questo progetto, partiamo da quello che abbiamo ricevuto con gli uffici tecnici, poi valutiamo. Non posso dire che sicuramente rispecchierà al 100% questo, però sì, ci impegnavo come amministrazione a riqualificare questo parco perché possa essere un parco condiviso da tutta la comunità, in primis da chi abita a Rione di Pescarenico e poi anche dagli altri lecchesi.